Il Presidente della Repubblica, proprio per la sua funzione, dovrebbe sapere bene che nessuno, nemmeno lui, è al di sopra e al di fuori della legge. Ed oggi prendiamo atto che egli avalla il comportamento dei suoi più stretti collaboratori che hanno tentato di interferire in una inchiesta penale in corso che riguardava fatti gravissimi, possibili trattative fra Stato e mafia, per evitare che qualche politico venisse ammazzato nel mentre venivano ammazzati magistrati come Falcone e Borsellino. E quindi non di una campagna di sospetto e di insinuazione si tratta, ma di ricerca di una verità in nome di quel sangue versato, in nome delle tante vittime che hanno pianto per lo Stato calabrache di quei giorni. Lei conferma con le confronti del Collegue? L'Italia Valori ha ieri depositato in Parlamento formalmente una richiesta di commissione di indagine affinché si accerti esattamente che cosa è successo tra il 92 e il 93 quando spezzoni dello Stato, su richiesta di mafiosi di primissimo piano, hanno ridotto la carcerazione preventiva e hanno dato anche altri benefici ai mafiosi stessi. E ciò dobbiamo fare soprattutto perché non possiamo affidarci solo ai risultati dell'autorità giudiziaria, in quanto l'inchiesta penale può anche portare a una non responsabilità penale, perché questi fatti potrebbero non avere responsabilità e rilevanza penale, ma non v'è dubbio che l'idea stessa, che in uno Stato di diritto ci siano organi del primissimo piano delle istituzioni che non fanno il proprio dovere o meglio prendono delle decisioni, non nell'interesse dei cittadini ma della propria incolumità e quindi non hanno il coraggio di rivestire il ruolo che stavano rivestendo, beh in quel caso la Commissione parlamentare d'inchiesta si impone perché è l'unico posto democratico prima che il popolo si ribelli per decidere e per accertare esattamente come sono andati fatti. Grazie a tutti.